A Nangrigento all'ospedale San Giovanni di Dio si è svolta un'altra sessione chirurgica del programma socio-sanitario Benessere Uomo che prevede fra le altre iniziative degli interventi di chirurgia andrologica e protesica. A cura dei chirurghi urologi, professor Michele Ruoppolo, direttore dell'unità operativa di urologia e andrologia e il professor Gabriele Antonini dell'Università la Sapienza di Roma. Dottore Antonini, cosa cerca il paziente che ha un disturbo della sessualità e dell'erezione? Il paziente cerca un centro di riferimento, un centro dove poter afferire, essere studiato da un punto di vista clinico e diagnostico effettuando degli esami anche strumentali e cerca ovviamente la soluzione al problema. Un centro di riferimento per il trattamento del deficit erettile che sia su base vascolare o sia post-oncologico, post-chirurgia deve poter offrire lo screening, la diagnosi e i trattamenti medici ma anche i chirurgici come nel caso dell'ospedale di Agrigento diretto dal primario Ruoppolo. Dottore Ruoppolo, perché le protesi ad Agrigento? Perché qui ad Agrigento siamo riusciti finalmente a realizzare un felice connubio fra quello che è l'organizzazione di un centro che si vuole porre come riferimento non solo regionale ma anche nazionale per il trattamento dei disturbi dell'erezione e quindi siamo riusciti a coagulare da un lato delle grandi professionalità quindi ovviamente il professor Antonini esperto a livello internazionale che ci presta la sua assistenza e offre la sua professionalità e ogni giorno ci fa crescere chirurgicamente nel trattare questi pazienti. E poi perché qui ad Agrigento con la collaborazione soprattutto dell'azienda, della struttura e soprattutto anche grazie all'intensa attività di promozione che l'azienda svolge nei nostri confronti e all'interessamento del commissario il dottore Zappia, del nostro direttore sanitario il dottor Gaetano Mancuso e grazie anche all'apporto determinante della farmacia siamo riusciti appunto a realizzare che è cosa non facile perché appunto bisogna saper integrare tutte queste varie istituzioni. Dottore Antonini come arriva il paziente in sala operatoria? Il paziente ha bisogno di trovare la confidenza, l'empatia con il medico un paziente che decide di fare un impianto di protesi ha una grande motivazione perché ha un problema enorme che lo attanaglia però ha altrettanta grandissima paura. Trovare la competenza, trovare dei medici esperti che tranquillizzano e non terrorizzano il paziente come molti fanno perché si pensa che la protesi sia un qualcosa di innanzitutto irreversibile, di ultima spiaggia e dopo fatta la protesi non si torna indietro, assolutamente nessun paziente che abbiamo trattato vuole tornare indietro. Perché sono così pochi i centri che offrono questo tipo di chirurgia? In effetti se noi guardiamo il panorama italiano sono veramente pochissimi i centri, si contano sulle dita di una mano i centri che possono offrire al paziente un trattamento che sia veramente tra l'altro a costo zero perché grazie alla sensibilità della nostra azienda noi abbiamo la possibilità di impiantare i pazienti con dei dispositivi che hanno ovviamente un loro costo ma per il paziente il costo è totalmente zero. Ci racconti brevemente perché sei arrivato qui? Sono arrivato qui perché ad Agrigento penso che è l'unico centro dove si può fare una protesi senza avere dei problemi economici esagerati. Io sono venuto perché il primario ha dato a me o a chi vuole penso questa possibilità di fare questo intervento e la ringrazio per me è iniziare una nuova vita.